Alfredo D'Ausilio, nato nel 1979, noto sui social come Alfredo Chiate, passato dai video su TikTok alle manette. Con oltre 140.000 follower e un milione di visualizzazioni, Alfredo pubblicizzava i prodotti del suo supermercato su TikTok, evidenziando le offerte del giorno con il suo caratteristico saluto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tuttavia la sua popolarità sui social non è bastata a salvarlo dall'arresto. I carabinieri di Quagliano in provincia di Napoli, insieme al personale Enel, hanno scoperto che il contatore del suo supermercato era stato manomesso per rubare energia elettrica. Il dispositivo di limitazione della potenza era stato rimosso, consentendo al supermercato di usufruire illegalmente della corrente. Secondo le indagini preliminari dal dicembre 2023 ad oggi, il furto di energia ha causato un danno di circa 6.000 euro. Al termine dei controlli, Alfredo D'Ausilio è stato arrestato per furto di energia elettrica. Ora il 44enne TikToker è in attesa di giudizio, mentre il suo supermercato rimane sotto la lente di ingrandimento delle autorità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!